il comandatore felice ferri è stato un consigliere dell'umanitario quando ci ha lasciati ha donato all'umanitario questo palazzo che in origine era un convento nel 1600 era un convento diventò un'abitazione privata decade 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 pesantemente quando ci fu consegnata era un rudel e abbiamo ricostruito integramente questa costruzione che ha tutti i ricordi del convento un po adattati ovviamente ma tutta la tecnologia nuova e questa è un'innovazione bella attaccata un'opera un'opera che io definisco d'arte cosa ci vogliamo fare quindi nel piano dove siamo adesso c'è la sede della fondazione ferri che è quella che gestisce il tutto il piano di sotto c'è l'asilo e nelle stanze di là ci sono 8 12 apportamenti alla fine saranno dove noi vogliamo fare una residenza per anziani autosufficienti per una cifra veramente modesta noi siamo convinti che funzionerà tutto grazie a tutti